Ecco il Proto Pisani Proto Brian Proto Brian Proto Brian, cosa pensa dell'incontro di oggi che ovviamente abbiamo ampiamente dominato? Abbiamo massacrato A un certo punto mi sono dovuto... Però non mi ricordo il punteggio 6-1-6 abbiamo avuto A un certo livello di game abbiamo fatto Bravissimo, possiamo chiudere? Che dice questa prima intervista? Che dice questa prima intervista? Si, la giudiamo? No, non mi ricordo di oggi